Il Monterosi riceve l'Aglianese già battuta nella gara di andata. Per proseguire nella corsa al titolo D'Antoni sceglie la coppia Pippi Roberti in attacco. Mastrantonio invece al posto dello squalificato Angelilli, confermato sulla sinistra Pellacani, match winner di Pomezia. Nei toscani Out, Malotti e Gianneschi. Il Monterosi la sblocca subito al secondo minuto sugli sviluppi di un angolo con Piroli che è bravissimo di piatto a giro a metterla sul secondo palo e beffare baci. Monterosi quindi subito avanti, predominio territoriale della squadra di casa che al 36esimo reclama un calcio di rigore per un presunto fallo di mano in area toscana sul cross di Traoré. Sullo sviluppo dell'azione Mastrantonio spara sopra la traversa. Minuto 39 su angolo di Capodaglio. La spizzata di Pippi viene deviata anche da un difensore ospite ma non sorprende Bacci che para a terra. Si chiude così la prima frazione del gioco col Monterosi avanti. Decide la rete di Piroli dopo appena due minuti. Pronti viene la ripresa e al terzo sulla punizione di Capodaglio. Il colpo di testa di Costantini si spegne a lato. Risponde l'aglianese al nono con un sinistro a giro alto di balla. Dodicesimo colpo di testa di Roberti e Pippi sul pizzata viene abbattuto in area ma per l'ipizer è tutto regolare. Dopo esposito al posto di Pellacani D'Antoni inserisce anche Sciamanna per Roberti. Al venticinquesimo ghiotta occasione per i Toscani ma il tiro di Castellani è ribattuto da Marciano. Il Monterosi getta nella mischia anche Massimo e Persighini per Capodaglio e Pippi ma al trentatreesimo arriva il pareggio a sorpresa dell'aglianese. Brutta indecisione quella tra Piroli e Costantini che permette ai Toscani di pareggiare con Balla. Al trentottesimo però il Monterosi si può riportare in avanti. Grossa occasione con Sciamanna che serve in mezzo Persighini. Bravissimo il portiere Bacci a respingere e sul tapin Mastrantonio a porta praticamente sguarnita colpisce il palo. Sulla stessa azione di rimessa dei Toscani Buono lascia in 10 suoi per una doppia munizione. Formazione D'Antoni che costretta a chiudere in 10 nei 4 minuti di recupero prova un forcing finale ma non ci riesce. Con questo risultato il Monterosi si vede accorciare le distanze a 2 di vantaggio sul Grosseto che riesce a vincere nei minuti di recupero a Bassia e Domenica è proprio big match Grosseto-Monterosi.